Eccovi una serie di contenute per i nostri sistemi di proiezione. Planetario, con le costellazioni visibili dalla vostra chiesa. Pure il cielo notturno in cui è nato Gesù, visto dalla località dove è stata la vostra chiesa. Grazie all'alta risoluzione è possibile vedere centinaia di migliaia di stelle contemporaneamente. Proiettare immagini fisse. Pure video di animazioni confetterizzate. Come un mondo che orbita e cade su di noi. È possibile rivedere porzioni della cappella sistina a grande scala e alta risoluzione. Oppure avere sul soffitto motivi decorativi casuali, geometrici, lineari, fissi e in movimento come un arcobaleno. Il sistema può trasformare il vostro soffitto in un gigantesco lucernario. Un lucernario con vetrate colorate da cui filtra la luce del giorno della Pasqua. Le opportunità sono illimitate. Per qualsiasi informazione ci trovi allo 0377569530.